Cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore che vi accoglie nel suo cuore. Grazie a voi e pace dal Dio Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo. E buongiorno da parte di Don Umberto e diciamo insieme. Siamo lodati i Sacri Cori di Gesù, Maria Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Quando fai l'elemosina, non suonare la tromba. Qualcuno si metteva in mostra, dicendo, è bene che tutti vedono il mio buon esempio. Ma Gesù ci dice, se fai qualcosa di bene perché lo vedono gli altri, non è esempio buono perché quel bene servirebbe alla vana gloria, gloria di Satana. Cercheremo allora di stare nascosti. Il bene che fai è luce che illumina anche senza che tu lo voglia. Signore Gesù Cristo, tu che sei mite e umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. Ed ora, ascolta Gesù. Che parla il tuo cuore ti dice? Anima cara. Cerca delle nuove sorprese, in quei piccoli sacrifici fatti per amore mio e che mi rallegrano. È pur sempre lo Spirito Santo che te rispira. Ed ora, accogli con fede la benedizione del Signore. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo e intercessione del Beato, sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone, affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel Divin Volere. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi imprimando nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi imprimando nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo, comunichi imprimando nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti sono restituite le forze dell'anima e del corpo. Sei ristanato ogni infermità spirituale e corporale. Enrichita e abilita di ogni bene per tu, sia la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù, benedico tutte le cose da Lui create, affinché tu le ricevi a tutte e benedete da Lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, tutto, affinché tu resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù, ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, il viscere, il respiro, il moto e tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti il santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen. Siano allodati i Sacri Cuore di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre. Siano allodati i Sacri Cuore di Giorgio Siano allodati i Sacri Cuore di Gesù, e questo è sempre giù e giù, i mi limo, i buona, laaya e vediamo aluoco. Grazie a tutti.